Anna ma porca miseria Ma com'è possibile? Guarda la mappa Wow No Adesso è dietro Adesso è dietro Ecco perché perdo sempre Ma come hai fatto a fare queste cose voi? Eh sì Anna perché non guardi la minimappa e non sai dove sono i cosi Alex cosa c'è? Non mi riesco a fare niente Sì La macchina con razzetta non riesco La scusa quattro volte No No sotto anch'io ho detto medio comunque Dai io girati Chi è questo? Dai il sito Dai mi hai fatto tutto Sto qua Beccati questa Dai No Tagliti bastardo No Tua madre Te odio tua madre io veramente C'è il giorno che ti ha messo al mondo